Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un like. Un'ombra di mistero avvolge il tragico decesso del giornalista Andrea Purgatori, poiché la Procura di Roma ha avviato un procedimento investigativo dopo la presentazione di una denuncia da parte dei suoi familiari. L'insolita indagine si è focalizzata su due individui impiegati in una struttura di diagnostica a Roma, i quali sono stati ufficialmente iscritti nel registro degli indagati e sono ora accusati di omicidio colposo. Secondo quanto riferito dall'agenzia AGI, la storia prende una piega sinistra poiché si è venuto a sapere che il giornalista era sotto cure mediche per affrontare una battaglia contro un tumore ai polmoni e problemi cerebrali. Per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa, le cartelle cliniche di Purgatori verranno sequestrate dalle cliniche che lo stavano assistendo. Questo delicato compito sarà eseguito dai carabinieri, che opereranno sotto il coordinamento dei magistrati romani. Il decesso del giornalista è avvenuto il 19 luglio scorso in un ospedale romano, dopo una breve e fulminante malattia. Questo evento ha scatenato una vasta e minuziosa indagine, con l'autopsia programmata per lunedì 24 luglio. Il risultato di questo esame risulterà cruciale per determinare l'evoluzione delle indagini. A seconda dell'esito dell'autopsia, l'indagine potrebbe giungere a diverse conclusioni. Se si confermasse la presenza di metastasi, il caso potrebbe essere archiviato. Ma in caso contrario, potrebbe aprirsi una complessa disputa tra esperti medici, consulenti e periti del settore riguardo alla causa della morte. Nella speranza di far luce sull'oscura vicenda, siamo in attesa delle rivelazioni dell'autopsia, sperando che possano svelare la verità celata dietro la morte prematura del giornalista Andrea Purgatorio. La società è in sospeso, ansiosa di conoscere la verità nascosta tra le pieghe di questa intricata danza di verità e mistero. Non dimenticare di visitare il nostro canale, lasciare un commento su questo video, e se ti è piaciuto lascia un like, attiva la campanella ed iscriviti al canale. Alla prossima! Alla prossima!